Amo, è ora di andare, ti devo dire la verità, tu sei passato da qua, io mi sono sdraiato, quello mi ha detto, no paghi dopo, io ancora non ho pagato, ora come si fa, quelli mi hanno visto entrare, non ti riconoscono, sei entrato con gli occhiali da sole e non te ne metti, poi sei entrato con il costume nero ti metti questo bordeaux, c'entra, ma chiedi in italiano non te ne metti, ti metti questa qua così, non si accorgono di te, se mi dicono ma lei ha pagato, io sono venuto a guardare, non mi piace qua, e me ne sto guardando, ma non è mio, questo è tuo, sì mio, mi accattava questa cosa antico, e tu che fai, vabbè io mi travesti, allora ci vediamo là all'ingresso, ci vediamo all'ingresso, va bene, ragazzi stop il video e ci rivediamo all'ingresso, ovviamente vi faccio vedere che ce l'ho nero, ma lo sto andando a cambiare, scetto, ragazzi come vedete sta uscendo dalla spiaggia libera, bannazione non sicura perché tu sei entrato da quella libera, certo, io venirò lito, comunque amore, a te ti ha riconosciuto? no, ha funzionato, guardate ragazzi, guardate, ho cambiato veramente il costume, ho messo quello bordeaux, ma tutto a posto, tutto a posto, tutto a posto, devo dire che ha delle idee brillanti, ma anche oggi ce l'abbiamo fatta, abbiamo risparmiato, no, che poi ce l'hanno all'astare e sti soldi non li hai caputo, hai posteri, hai posteri, certo, vabbè ragazzi a dopo, guardate che ho lo secondo, no vabbè